Complessivamente i fondi assegnati per l'attuazione del protocollo ammontano a 670 milioni di euro per 5 anni, quindi 134 milioni di euro l'anno. 134 milioni per i centri qui in Albania corrispondono al 7,5% delle spese connesse all'accoglienza dei migranti sul territorio nazionale. E noi siamo convinti che queste risorse non siano da considerarsi un costo aggiuntivo per due ragioni. Punto primo perché i migranti che verranno condotti qui in Albania avrebbero comunque dovuto essere accolti in Italia, dove costano, segnalo. Punto secondo perché noi riteniamo che l'elemento di maggiore utilità di questo progetto sia che può rappresentare uno straordinario strumento di deterrenza per i migranti illegali destinati a raggiungere, decisi a raggiungere l'Italia e l'Europa, oltre ovviamente a un efficace mezzo di contrasto delle reti di trafficanti, perché lì sì ci sono dei trafficanti che noi cerchiamo di combattere, che vuol dire anche ovviamente portare a un contenimento dei costi. Ricordo che nei primi cinque mesi di quest'anno i flussi migranti illegali che sono sbarcati in Italia sono diminuiti di quasi il 60%, quindi c'è stato già un contenimento dei costi. Chiaramente con la deterrenza rappresentata anche da un progetto come questo, noi consideriamo di abbattere quei costi ancora di più e quindi non stiamo spendendo risorse aggiuntive, stiamo facendo un investimento. Non mi stupisce chiaramente che l'opposizione sia contraria perché loro non vogliono risolvere il problema dell'immigrazione illegale, ma io penso di avere il diritto, visto che la maggioranza degli italiani mi ha chiesto di cercare di affrontare questa questione in maniera strutturale, di spendere le risorse dei cittadini per fare quello che i cittadini mi hanno chiesto. Ripeto, la posizione dell'opposizione è un'altra, ma la mia è questa e sto facendo il mio lavoro. Sono risorse spese per risolvere un problema? Vuole sapere quali sono le risorse che si potevano spendere in sanità e che invece non sono servite a risolvere un problema? I 17 miliardi di euro che sono andati nelle truffe del super bonus, soldi tolti ai malati per darli a dei truffatori. Quelle sono risorse che sono state spese non per risolvere dei problemi e che sono state gettate dalla finestra. Se io avessi avuto quei 17 miliardi di euro in più, non dico i 220 miliardi delle risorse sui bonus edilizi, non dico i 120 miliardi delle risorse sul solo super bonus 110%, dico i 17 miliardi di truffe stimate ad oggi. Se io avessi avuto ancora a disposizione quelle risorse, volentieri le avrei messe sulla sanità. Purtroppo sono state gettate per regalarle con norme scritte evidentemente male a gente che voleva truffare lo Stato. L'opposizione fa il suo lavoro, lo considero normale, ma tanto come si fa si sbaglia. Se io avessi smesso di governare in questo mese, avessi fatto campagna elettorale, mi avrebbero detto che non governavo perché facevo campagna elettorale. Continuo a governare e mi dicono che faccio campagna elettorale perché governo. Qualcosa dovrò puffare, perdonatemi. Ho deciso di fare il mio lavoro, continuo a fare il mio lavoro. Quello che è completo, quello che va avanti, quello che va verificato, quello che va raccontato, quello che va spiegato, quello che va lavorato, lo faccio. Piaccia o no all'opposizione, perché l'unica cosa che non posso fare, che capisco, all'opposizione piacerebbe molto, è scomparire. Questo non me lo potete chiedere. Io ho deciso, ho detto che non avrei fatto campagna elettorale in questo mese e penso che si veda che non sto facendo campagna elettorale. Ho fatto un'unica manifestazione sabato scorso di chiusura della campagna elettorale e per il resto sto facendo il mio lavoro. Però vado a Caivano, è uno spot elettorale. Vado in Albania, è uno spot elettorale. Vado a sottoscrivere l'accordo di coesione, è uno spot elettorale. Quindi che cosa avrei dovuto fare? Avrei dovuto sospendere il lavoro del governo per un mese? Mi dispiace, non me lo posso permettere. Io devo fare il mio lavoro ed è quello che sto facendo. Per quello che riguarda i tempi glielo confermo. Chiaramente è ovvio che le due strutture devono lavorare insieme. Le due strutture saranno operative il primo d'agosto. Noi partiamo per ora da più di mille posti attualmente che chiaramente arriveranno ai 3.000 che abbiamo previsto dal protocollo. Grazie a tutti.